Alessandro Micheletto è uno dei 13 giocatori della nuova rosa di Tarantino Volle una promozione per te Ale che effetto ti fa? Sicuramente sono molto contento è un sogno che si avvera un sogno che ho da quando sono bambino ringrazio la società per l'opportunità che mi ha dato già l'anno scorso ho avuto la fortuna in parte insomma di vivere la superlega di essere aggregato al gruppo della prima squadra ma da quest'anno insomma esserlo al completo mi rende molto contento e sono molto pronto e non vedo l'ora di cominciare. Quanto ti ha aiutato giocare con continuità in Serie A3 con la maglia dell'Uni Trento Volle nell'ultima stagione? Sicuramente il mio percorso giovanile è stato molto importante questa società crede molto nei giovani ho avuto la fortuna ogni anno insomma di crescere in allenamento in campo giocando e anche insomma quest'ultimo anno a vivere un po cos'è la superlega. Esordio appunto in superlega in Coppa Italia in Champions League e anche maturità scolastica ti stai mettendo alle spalle un periodo molto importante per sì ho chiuso come dire un ciclo no ciclo da studente e ho avuto anche la fortuna quest'anno di fare questi esordi molto importanti per me che come ho detto prima giocare in superlega per me è un sogno e con questi campioni in questa società è veramente bello quindi non vedo l'ora di continuare questo percorso iniziato l'anno scorso ecco. Non lo direbbe la tua altezza ma in realtà sei un giocatore molto tecnico ancora prima che potente e fisico la ricezione è forse uno dei fondamentali in cui ti sei applicato di più ti piace molto? Sì ho avuto insomma qualche anno fa non ero così alto quindi ero come ruolo libero ho avuto la fortuna di migliorare sotto punto di vista di ricezione e di difesa adesso insomma che sono cresciuto un bel po' devo mettere su peso in attacco a muro insomma nei fondamentali appunto di attacco ecco. Ultima domanda sei cresciuto a pane e pallavola hai visto tanti giocatori in allenamento in partita qui a Trento c'è qualcuno a cui ti sei ispirato? Ma guarda io già da quando ero piccolo venivo con mio papà vedere gli allenamenti della squadra mi ricordo Kaczynski, Juan Torrena tu insomma dei fenomeni che sono passati qua a Trento poi comunque anche l'anno scorso ho avuto la fortuna di vivere questi campioni per esempio Simone Giannelli è uno che mette in campo cuore e anima e sicuramente devo prendere molto da lui ecco